Viva l'Hanball, viva Tavarnelle, viva i comuni di Tavarnelle e Balberino, grandissimo evento ieri pomeriggio dalle 18 grazie al Facebook di Tavarnelle, la vittoria di Tavarnelle su Modena 27 a 22, questo il titolo. Ben ritrovati da Stefano Ballerini a tutto Handball come tutti i martedì alle ore 19, andiamo a rivivere un weekend davvero lungo e significativo. E allora cominciamo, non ce ne vogliano le squadre di A1 maschile, A1 femminile, le altre A1 silvere, andiamo dalla A1 bronze, serie A bronze, la Palamano Tavarnelle. Allora esegue quello che io mi ero augurato nel prepartita, ve lo ricorderete, il nostro mega servizio di sabato scorso, la presentazione, l'inaugurazione, il taglio del nastro della nona meraviglia del mondo, di questo straordinario bellissimo impianto. Bene, Tavarnelle batte Modena 27 a 22, accorcia la classifica e mette in sicurezza anche il divario tra le due formazioni, cosa di cui io mi ero dimenticato nel commento finale della partita. Avevamo perso 30 a 26, meno 4 all'andata, vinciamo 27 a 22, ma eravamo in vantaggio molto più ampiamente, ci siamo addormentati nelle fasi finali della gara, ma sistemiamo portando il differenziale a più 5, ovvero sì, ci rimane un punto di vantaggio. Stai mai te in una volatona finale col Modena? Allora queste sono le immagini della diretta di ieri pomeriggio da Bustecca, la località ancora il Palasport non ha un nome, io la butto lì, è una provocazione amichevole con il sorriso sulle labbra. Ma se per caso la Pallamano Tavarnelle adesso ha fatto non c'è due senza tre, io ho detto la quarta viene da sé dove gira tutto nell'economia del campionato, la trasferta a Bologna a San Lazzaro di Savena contro il Bologna, che viaggia da solo e non ha problemi, vincerà il campionato. Noi dobbiamo fare la partita per il perfect game di questo campionato, battere Bologna, allungare la striscia a 4 perché a quel punto poi si tratterà di andare a Follonica, non c'è due senza tre, la quarta verrebbe da sé, la quinta parrebbe già dipinta e poi mi fermo lì. Se però riuscissimo a fare tutto quello che io col sorriso sulle labbra sto raccontando, Bologna vince il campionato e Tavarnelle potrebbe giocarsi di arrivare in volata al secondo posto. Dobbiamo fare tutto perfettamente, non è detto che ci si riesca, però a questo punto tre vittorie consecutive, bisogna proseguire. Il trend, Tavarnelle batte Modena 27 a 22, il primo tempo era terminato 13 a 10, anche lì avevamo staccato gli armeggi e poi abbiamo buttato qualche palloncino lì e il Modena ha sempre cercato di rimanere il più attaccato possibile. Tavarnelle, Ciani Gelicic, Gelicic è un portiere straordinario, rivedetevi la partita che seguirà dopo perché ha fatto tutta una serie di parate dai perimetrali destra e sinistra, tiri centrali, sottomisure e tutto quanto. Gelicic è grandissimo portiere, mi dispiace per l'amico Ciani che è relegato in panchina, ma con Gelicic il Tavarnelle può davvero sognare. Borgiani 12, poi vedremo la classifica, marcatori il buon Edoardo, ritorna in testa, 12 di cui due su rigore, Sbrilli, 3 di Vermidi, 3 autentici siluri, Vucci, Bazzani, Picciardo 1, grazie alla sua fidanzata che è stata la mia cameraman ieri sera della diretta, Del Mastio 1, Muffini 1, Riccardi 2, Calosi Andrea 1, Nardi 2, Varvalito 2, il mitico Silei, a me lo faccio ridere l'amico Enrico Milano in cabina di regia, Allenatori il quartetto, Raic, Graziosi, Mori e Cifarelli, per dovere giornalistico e poi mandiamo tutto a fig.it, Modena i portieri, Bernardi nel primo tempo quasi tutto, nel finale tutta la ripresa di Caretti, altro gran portiere ha tolto 5 o 6 palle con interventi straordinari e uno di quei portieri a cui piace immensamente buttarsi, gli altri fanno le finte con le mani, con le gambe, lui vola, si butta per terra, respinge, pare in due tempi, tutto quello che è stato. Stallo 3, Martinelli 1, Pugliese il migliore dei suoi, 6, Gollini, Prandi, Boni, Morselli 1, Pollastri 3, 3 di Dall'Olio, Gualtieri, Vaccari 2, Bruni, Petrillo, Gibertini 2, allenatore Sgarbi. Allora hanno arbitrato Soria e Bagnolati, sul mio pronostico c'era scritto non c'è due senza tre, che si avvera? Tavarnelli batte Modena 27-22, primo tempo 13-10, sistemando, me ne ero dimenticato, mi scuso, ma ve lo vado a dire adesso, abbiamo sistemato il conto diretto tra andata e ritorno, 30-26-4, ritorno 27-22 più 5, con l'avanzo di 1, non fosse mai necessario. Gran pubblico ha corso al bustecca, l'inizio contratto, Modena avanti 3-1, Tavarnelli che doveva prendere visione, misure e colori della sua nuova casa. Questo bellissimo, tutto bellissimo. Poi i neroverdi di Mr. Reich prendevano confidenza col match, impattavano e da quel momento Modena era relegata solo a inseguire. Più 3, più 4, anche più 5 con la palla del più 6. Qualche svarioncino, mandava le squadre a riposo 13-10. Nella ripresa Reich richiamava al massimo impegno i suoi, voleva sistemare tutto, che sfruttando una davvero magica serata di superissimo Gellecic, che tirava giù di continuo Serranda e Bandone, neroverde, negava i tv centrali, i perimetri, non ce n'era più niente per nessuno. Borgiani martellava altri 12 gol, due rigori, rimanendo e tornando a condurre la classifica a marcatori che poi vedremo. Con lui Vermidi 3, Picciardo 1, Muffini 1, 2 di Riccardi, 1 di Calosi, 2 Nardi e 2 Valvarito. Quello che dicevo, prossimo match è quello che decide tutto. O bene bene, oppure purtroppo non riusciremo a risalire. Si giocherà a San Lazzaro di Savana con il Bologna, capolista, poi Follonica e poi Casagrande. Il match di Bologna sarà inevitabilmente, come si dice in questi casi, la cartina torna sole, davvero decisiva. Se questo Tavarnello è rivisitato e corretto così bene, può avere le carte in regola, magari con qualche aiutino spasso dalle altre parti, per rincorrere Bologna. E la seconda posizione, chissà, adesso mi verrebbe da dire, scherzandoci, trovando le rime, dopo il 2, dopo il non c'è 2 e senza 3 realizzato, ci potrebbe essere la quarta che viene da sé. Andando oltre, la quinta parrebbe già dipinta, chissà, chissà, chissà. Forza Tavarnello, andiamo e poi torneremo per vedere risultate classifiche. Andiamo alle notizie nazionali, l'European Cup, Brixen sfidava l'Olimpiabe per essere la quarta. Purtroppo Brixen perdeva negli ottavi di finale 29 a 23. E allora andiamo a vedere la sconfitta per il Brixen in terra ellenica, in Grecia. Nell'andata dell'ottavi di finale dell'European Cup, la formazione italiana ha perso 29 a 23. Primo tempo 15 a 9 contro i padroni casa dell'Olimpiacoste nel match giocato nel Palazzo dello Sport di Iliopulis, località e periferia di Atene. Andiamo intanto a vedere, vado a vedere perché poi ieri nella concitazione www.questo.questo. andiamo a collegarci con il sito della Federazione Italiana Gioco Palla a Mano perché qui c'è il resoconto. Brixen si ferma agli ottavi di European Cup e gli altotesini cedono all'Olimpiacoste. Il cammino europeo del Brixen si ferma purtroppo già, dicevamo, della sconfitta ad Atene. Atene in casa con l'Olimpiacoste 23-29, poi ad Atene l'Olimpiacoste ci batte 35 a 27. Tra gli altotesini buona la prova al tiro di Stricker 6 su 8, eguagliato in termini di realizzazione dal brasiliano Paolo Vinicius de Oliveira 6 su 13. Match equilibrato fino al 7-6 al 14esimo, prima purtroppo di assistere all'accelerazione dell'Olimpiacoste. 12-7 di Tizaras, il migliore al tiro con i suoi 6 gol. Si andava alla sosta 18-11. Nella ripresa l'Olimpiacoste controllava toccando anche il più 10, senza mai più permettere a Brixen di poter riguscire. E allora, questa è l'andata e il ritorno del servizio di palla a mano. Andiamo a vedere cosa è successo dagli altri parti. Proseguendo nelle notizie del weekend, Serie A Gold, Bolzano e Fasano agganciano i Black Devils al secondo posto. In coda gioisce l'Epan e il Trieste. E allora il commentino priva della capolista Brixen, che era impegnato in Coppa Europea. La sedicesima giornata di Serie A Gold affolla il secondo posto e rende incandescente la lotta. Salvezza, campionato aperto in tutto e per tutto. Se Brixen e Conversano dovranno attendere il 6 marzo prossimo per sfidarsi nel recupero, alto a tesini di scena in European Cup. Nessuno riesce nel frattempo ad accorciare sensibilmente sulla zona primato. Merito del Pressano, i Trentini bloccano Merano sul pari nel derby, permettendo a sedea Gruppe Fasano e Bolzano di aggrupparsi al secondo posto. Un punto chiave salvezza proprio per Pressano, che però fa i conti con le concomitante vittorie di Trieste e spare Reppan. Allora, come al solito, non voglio rubare tempo. Nel nostro commento, che è già pubblicato testualmente su www.firenzaviolasupersportlive.it.com, ci sono i brevi commenti di fig.it alle varie partite, ve li potete andare a leggere. Io vado a leggervi solo i risultati e la classifica. Bolzano Albatro, 33-27. D'ora in poi, chi ha degli amici, chi vuol vedere i tabellini, chi ha delle curiosità, accanto ad ogni risultato pubblicato, c'è il tastino download, lo pigiate, e come per magia si apriranno tutti i tabellini di tutti gli incontri. Fasano, Cassano Magnago, 32-23. Pressano, Black Davis, Alperia, 34-34. L'unico pareggio. Sassari, Raimonego, Rubiera, 38-25. Trieste, Carpi, 31-27. Sparareppan, Diappiano, Cingoli, 36-30. Mercoledì 6 marzo il recupero Brixen. Conversano, sarà una bella serata. Brixen, 28-1 da recuperare. Black Davis, 26-26. Bolzano, 26-26. Fasano, 26-1 da recuperare. Conversano, 23-1 da recuperare. Castano Magnago, 22-2. Ego Sassari, 22-2. Sparareppan, Diappiano, 13-5. Cingoli, 12-1 da recuperare. Albatro, 10-10. Trieste, 10-7. Secca Rubiera, 7-7. Prestano, 5-5. Carpi, 4-4. Le foto dell'amico Luigi Cano, grazie. Allora, andiamo a vedere il resto. del nostro notiziario, perché abbiamo ripetuto la pubblicazione di una notizia, poi metterò a posto tutto. In Serie 1 femminile si giocava la sedicesima giornata. Casa Grande-Pontini era lo scontro play-off in coda da tenere sotto osservazione Padova-Teramo. e allora Salerno balza in testa, esploat di Dossobuono contro Cassano Magnago. Padova-Teramo completa la quindicesima giornata. Anche qui il pezzettino di apertura di Fig.it. Complice il turno di riposo di Lifestyle Erice. La Serie A1 femminile a una nuova prima della classe. La Giovi-Salerno balza in testa dopo la quindicesima giornata di A1. Sorpasso delle campionese d'Italia in carica. Piazzato grazie al facile 34-23 contro il Lion Sassari. Partita senza storia al Palas Santoro in Terra Sarda, dove le campane di Cassano controllano sin dalle prime battute scatto del 10-5, 13-7, 16-8 e poi vanno a dilagare nella seconda parte della contesa 22-11, 28-13, 33-19. Cinque gol per Ilaria dalla costa tra le Selernitane e dieci giocatrici a segno sulle 14. a disposizione del tecnico francese, ma pronostici rispettati e gli uomini giustamente in testa alla classifica. Stessa cosa di CassiQui della A1 femminile. Le immagini da Fig.it che ringrazio. Dosso Buono, Cassano Magnago 24-19. In tutti i risultati che sto per darvi c'è il tastino download. Volete andare a vedere le reti, i tabellini, togliervi qualche curiosità? Piggiate il download e si apre il tabellino. Casa Grande Padana, Pontini a 25-30, Mezzocorona Brixen 27-38, Sassari, Giovi Salerno 23-34. Domenica era in programma Cellini-Padova-Teramo. Allora vado qui perché ieri non ho avuto la tempistica di andare a darvi tutto quello che era successo. Rimedio in pochi secondi. Teramo e Spugna-Padova nel posticipo della quindicesima giornata. finisce Padova-Teramo 24-30. Allora a questo punto la classifica è Giovi Salerno 24, Erice 23 che ha riposato, Pontini a 23, Suttirol-Brixen 23, Cassano Magnago 21, Casa Grande Padana 18 punti. Teramo staccata di 8-10, la seconda parte della classifica, Dossobuono 9, Mezzocorona 5, Padova 4, Lion Sassari 0 punti. e torniamo nell'alveo del nostro articolo di Firenze Viola Super Sport. Andiamo a vedere qual è il prossimo argomento. Io passo la linea alla regia perché all'interno di tutti i comunicati e di tutti i risultati c'è un servizio filmato a cura di figtv.it. Io prendo un paio di minuti di tranquillità, la linea torna a Enrico Milano che vi passa il prodotto video di fig.it. Grazie, a tra qualche minuto. Mancano 30 secondi. Ristone con 10 sul 11, Mezzocorona che probabilmente è l'ultima palla che Ciandali però spedisce alto sui banner pubblicitari. Lucchina a cercare di servire Sozio. Allora 16 secondi per il Mezzocorona per cercare di andare sul meno 10, un'ora dal meglio questo incontro. Campestrini scambia con Ciandali, pasticciano le due, recupera il pallone dei pilati. No, Almenteros di Pietro cerca il tiro praticamente dai 9 metri però della sua area. Termina allora a 38.27 al Palafornai. Il match in una veloce fotografia 4 a 0 del Mezzocorona in avvio. Poi un batti e ribatti con le squadre che si sono affrontate punto a punto fino al trentesimo quando le bristinesi hanno piazzato il 19.16 con cui sono andate in intervallo e sono ritornate. Poi ammazzando il match con maggiore determinazione e maggior cinismo hanno praticamente chiuso una gara portato a casa due punti più preziosi forse dell'oro e agguantano così il Lerice al primo posto mentre il Mezzocorona rimane a quota 5 in nona posizione però ovviamente deve attendere l'esito del match che si giocherà domani al Palaforfalle di Padova tra le Patavine, padrone di casa ed il Teramo col Teramo che a due gare in meno dovrebbe scappare e salvarsi. Al momento il Mezzocorona giocherebbe il play out proprio con il Padova che ha questa ghiotta chance. Guardiamo, contattanto il fattore campo e nel frattempo il Mezzocorona ingloba questa sconfitta ma festeggia il proprio capitano, sicuramente avrebbe avuto fallo una vittoria. Qui dal Palafornai, del Gianmarco di Rolongo e tutto, una buona palla a mano e una buona sera da tutti. Torniamo in studio, grazie Enrico Milano. Allora, Serie A Silver. La Tecnocems a Lazzaro di Savana resta l'unica diretta inseguitrice di Camerano dopo la quattordicesima giornata di Serie A Silver. I ragazzi di Andrea Frabbi si sono imposti nettamente su Borbone-Cus Palermo 30-13 mentre i marchigiani hanno conquistato la tredicesima vittoria stagionale liquidando i bresciani del Metelli-Cologna 29-28 grazie alla decisiva rete di Adamo a soli due secondi dal suono della seconda sirena. Per cui questo è il commentino alla giornata Silver che voglio dire noi vi riportiamo. Seguono dalla diretta testuale tutti i commenti delle varie partite a cura di fig.it io vi do anche in questo caso risultate classifiche verde-azzurro-sassa di Genea Lanzara 22-27 ovviamente stesso discorso sia i tasti download per andare a leggere tutto quello che voi vorrete Chiaravalle-Orlando-Enna 27-26 Camerano-Metelli-Cologne 29-28 Lions Teramo-Campus Italia 19-29 San Lazzaro-Borbone-Palermo 30-13 San Giorgio-Molteno-Romagna 31-24 Camerano-Vola 27 San Lazzaro 23-4 Chiaravalle 20-20 Molteno 19-19 Metelli-Cologna 18-18 Romagna 18-18 Orlando-Enna 15-18 Genero-Lanzara 14-14 Verde-Azzurro-Sassari 12-19 Re-Borbone-Cus-Palermo 6-19 Campus Italia 6-19 Lions Teramo Due punti Andiamo a vedere quello che è successo nella prossima parte del nostro programma E noi scaliamo e torniamo in serie a bronze per le note tecniche e i numeri E dunque 27-22 Per il Tavarnelle che batteva al Parasport Bustecca Modena 27-22 sistemando anche con il più uno a favore il doppio confronto tra andata e ritorno potesse servire Andiamo a vedere quelli che sono stati i risultati Spallanzani-Casal Grande Marconi-Jampers 29-23 Bologna-United che seppellisce Follonica in onda Follonica 41-22 Bene così Follonica fermata Prato che deve sudare le sette canotte per avere la meglio del Dertona 31-27 solo più 4 Tavarnelle Modena 27-22 più uno Tavarnelle tra andata e ritorno La classifica Bologna 20 che è scappato via Non lo può fermare più nessuno Prato 14 Follonica 12 Pallamano Modena 12 Tavarnelle che accorcia meno uno 11 Bisogna andare a Bologna vincere e poi vincere anche le ultime due Follonica e Casal Grande Vedremo se sarà possibile fare il miracolo positivo fino in fondo Tavarnelle 11 293 fate 295 Meno due i gol subiti Spallanzani-Casal Grande 9 Dertona 6 Marconi-Jampers 4 Andiamo a vedere la classifica marcatori Le prime posizioni Edoardo Borgiani Ne segna 12 di cui Due su rigore 106 si riprende la testa Drudi Augusto Matteo per Bologna United è uno che prende differentemente da Edoardo Quattrini 105 Carlo Licesi-Prato che batte Dertona Lui rimane sale a 102 ma è staccato A 74 e 72 La coppia Follonica Prima Tamas-Zoltan 74 E poi il mio amico Tommaso Pesci 72 Mattia Lamberti dello Spallanzani è a 64 con Jonathan Nasufi del Dertona Questi sono i migliori marcatori Allora Andiamo a vedere quello che succederà nella prossima partita Modena Spallanzani il derby Emiliano Marconi-Jampers il derby dell'Appennino Prato Marconi-Jampers tu ci facessi un favorino Tu ci fermi Prato E poi noi cerchiamo di fare il massimo a Bologna Bologna-Tavarnelle ore 20 e 30 di sabato prossimo Di domenica Follonica-Dertona E dunque forza, forza, forza Tavarnelle-Pallamano Allora la partita la vedrete Torniamo a parlare col sindaco di Barberino e Tavarnelle Presenta la partita La linea alla nostra regia Caro il mio amico David Baroncelli Allora la partita è finita Tavarnelle l'ha vinta E' successo quello che avevo chiesto io Tu eri stato sulle due Dandomi un proverbio che io non conoscevo Non c'è due senza tre La prossima diventerà La quarta arriva da sé E la quinta potrebbe essere già dipinta E' una battuta del ballerini Impressioni, emozioni, palpitazioni Penso sia Oggi sia stato il coronamento Di un ritorno a casa Una bella festa Una grande vittoria Una partita giocata Con un po' di nervosismo Ma era capibile Rientrare nel nuovo spazio Era un'emozione per tutti Anche per il pubblico In una palestra cremitissima Oggi abbiamo triunfato E' un grande sport Grande sacrificio Una bella squadra davvero Che può fare ancora tanto E di più Si, ci siamo avvicinati Adesso Modena è a un solo punto Pollonica che ha perso Bisogna andare a braccare il Prato Io sono convinto che da questa sera Da questa prima domenica Questa prima partita Tavarnel è destinata ad un grande futuro Rimarremo sicuramente in categoria Al di là di tutto e tutto Però io mi voglio giocare davvero Il potere a raggiungere Il proseguimento In altro lito di un campionato Dove fino adesso Non meritavamo Di poter ambire a tanto Però da oggi in poi Voglio dire Con la legge dei due punti per partita Tutto potrà succedere Questo è un luogo di sport Pensiero, credo che tu sposi Che diventerà decisivo Per tantissime discipline sportive Dal calcio a 5 A tutto quello che si può giocare qui dentro È davvero un luogo di sport Un bello spazio Si parte ossia alla grande Io credo che la squadra Per tornare alla palla a mano Stia davvero dimostrando Di avere delle doti E quindi io non faccio pronostici Ma seguiremo un'attenzione Sosterremo i nostri atleti I nostri colori Costantemente nella parte residua del campionato Allora io ti ringrazio Da giornalista tiposo Tuo amico Amico della palla a mano È stato grazie a voi tutti Coloro che sono scesi in campo all'inizio Per portare saluti C'era anche il parroco A benedire l'impianto Per cui tutto ciò che verrà Parte da oggi Possiamo dire così? Si possiamo dire così Possiamo dire così Davide Avanti tutti insieme Davide Ti abbraccio Ti ringrazio Buon lavoro Ci rivediamo sicuramente presto Ti attendo alla prossima Per vedere cosa finisce Bene Ti ringrazio E saremo presenti Grazie mille Grazie a Davide Baloncelli Super sindaco number one E torniamo in studio Grazie Serie 2 femminile È continuata fino in fondo La lotta per l'approdo Alle final Del girone C Dove Tusce Prato Conversano 27-22 Mugello Euromed Mugello Flavioni Civitavecchia 29-26 Con sofferenza in attesa Poi Chiaravalle Camerano Devo andare anche qui Un attimo Datemi Modo Perché ovviamente C'era il posticipo Serale Ovviamente Non ho avuto tempo Di fare Tutto Me la trovo Assolutamente Così Vado un attimo Enrico Serie 2 Femminile Girone C Eccolo Allora Vado a darvi Il Risultati Del turno complessivo Dovrebbe essersi conclusa La serie A regolare La 2 Con Tusce Prato Conversano 27-22 Euromed Mugello Flavioni La perfetta 29-27 Chiara Valle Che batte Camerano Nel derby Marchigiano 37-33 Voglio dedicare Una paginella All'Euromed Mugello Vado io a Tasterare Il tabellino Del match Vinto Soffrendo Contro Civitavecchia 29-27 Primo tempo Civitavecchia Avanti 14-15 Allora Lia Dallai Sofia Ascialpi Martina Simoni 1 Tubi Margherita Match Winner 14 Addirittura Giulia Guidoni 5 Anna Incagli Veronica Gargani 6 Laura Zoppi Guia Cerchiai 1 Gorelli 2 Pietralunga Dreoni Landi E Daddario Completano La formazione Sara Sborgi Matteo Lucì Massimiliano Poggini E Chiara Materassi I 4 Della conduzione Tecnica Per quanto riguarda Civitavecchia Da menzionare Enrica Bartoli 8 Francesca Spizzico 5 Federica Ferretti 6 gol Per cui Il successo Di Euromed Torniamo Indietro Torniamo Qua Perché Torniamo Nell'alveo Della nostra Produzione Andiamo A mettere La Classifica Che vede Allora Comanda Tusce Prato Scusate Questi sono I risultati Allora Questa è la classifica Tusce 17 È la regola Season Adesso dovrebbe partire La fase Ad orologio Chiara Valle 15 Camerano 11 Conversano 7 Palla a mano Mugello Romed 5 10 Giocate 4 Vinte 0 Pareggiate 6 Perse 4 Per 2 Farebbe 8 I soliti Tre punti Di penalizzazione Che rimangono Che rimangono Impellenti Poi Flavioni Civitavecchia 0 Andiamo a darvi Risultati Della Serie B Con cui andiamo A chiudere La seconda Di ritorno Mugello Medicia 27 24 Montecarlo Olimpique Massa Marittima 31 34 Tavarnelle Battuta Di un sol Goal Allo sprint Dalla Carrarese 25 A 26 Grosseto E Olimpique Massa 12 Medicia E Mugello United 10 Carrarese 6 Tavarnelle 2 Montecarlo 2 La classifica Marcatore Di questo Campionato 90 Giacomo Gai Olimpique Massa Marittima Pio Francesco Del Giudice Grosseto 67 Beniba Che ieri è sceso in campo Avevo annunciato Gliel'avevo tirata Ma lui non mi tira in porta E non mi segna Ci siamo dati il 5 Bravo Comunque Beniba Che gioca in Serie B Ed è un andere Ha già segnato in Serie A Per cui Beata gioventù Da bravo Pallamanista Giocatore di pallamano Che crescerà 45 Di Tavarnelle Nicola Sbardellati 41 Di Grosseto Andrea Giglio 40 Di Medicea Berrahead Omar Hamed Calfalla 40 Gol Detto vado A memoria L'Under 13 Ieri aveva inaugurato Di fatto il Palasport Bustecca I giovanissimi 2 Tavarnelle Il rilevamento E l'immissione Con qualche numero Con qualche numero Su Bologna Tavarnelle E il match Che a tre giornate Dalla fine Della regular season Deciderà Tutto Forza Tavarnelle A voi tutti Vada la più cordiale Buonasera anche Da Enrico Milano Grazie Grazie Linea che torna Alla programmazione Del canale 96 prima E 187 Poi Grazie 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 Grazie.